Il rifugio segreto dell'illusionista è un escape room costruita con enigme intuitivi e sequenziali. La stanza offre sicuramente la possibilità di passare una piacevole serata in compagnia di amici o familiari ed è in grado di mettere d'accordo novizi e giocatori con dimestichezza nelle camere di fuga. Nessun enigma è proibitivo al punto di aminare la scorrevolezza della sessione di gioco, che sarà scandita dai messaggi lasciati all'interno della stanza dall'illusionista in persona. Pur non essendo una room molto complessa, servirà comunque applicazione e ragionamento per liberare l'usine 60 minuti a disposizione. Per l'allestimento degli ambienti si è puntato su arredamenti e scenari non troppo impegnativi. Questa scelta ci ha trasmesso la sensazione che alla room mancasse un po' di personalità e carattere, anche perché non abbiamo riscontrato dettagli in grado di rapire davvero lo sguardo. Inoltre la storia a nostro parere manca di identità, sembra si è rimasta a metà strada fra il precedente e l'attuale format della room. Ci sentiamo quindi di consigliare questa escape room agli amanti di gameplay fluidi, divertenti e non troppo complessi.